Un lento ritorno alla normalità nelle zone di Parma colpite dall'alluvione, strade tutte riaperte ancora a lavaggi delle vie e i danni ingentissimi che vengono elencati attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione di cittadini e imprese dal Comune di Parma. Con in più una buona notizia arrivata nelle ultime ore, il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato lo stato di emergenza in conseguenza dell'esondazione del 13 ottobre. Dopo l'audizione del sindaco Pizzarotti davanti alle commissioni ambiente e lavori pubblici, il governo ha così dato il via libera al provvedimento. Ora occorrerà attendere alcuni giorni per capire di quale sarà l'entità dei fondi erogati. Una prima stima dei danni indicava una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ma l'esatta quantificazione deve ancora avvenire. Intanto il Comune di Parma ha attivato ufficialmente il fondo per le donazioni in favore di coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del torrente Baganza. Per le donazioni occorre fare riferimento a Munus Fondo Alluvione. Il Comitato di Garanzia per la Gestione e l'Assegnazione dei Fondi Raccolti è composto da Caritas Diocesana Parmense, Consorzio di Solidarietà Sociale, Forum Solidarietà, Comune di Parma, Provincia di Parma, Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile. Il fondo alluvione sarà alimentato da associazioni, parrocchie, enti e sarà l'espressione più vera e profonda della comunità che si stringe intorno a chi si trova in un momento di grande difficoltà. Fondazione Munus Onlus sarà il ponte tra i cittadini che contribuiranno con le loro donazioni e le organizzazioni stesse. Munus sarà inoltre garante di ogni passaggio, dalla gestione del danaro raccolto alla rendicontazione di tutte le fasi fino alla gestione finale.